Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno e buon inizio di settimana, buon inizio di mese, insomma buon inizio. È un mese molto importante per il football 2022, abbiamo la certezza che arriverà a questa patch 0.9.1, qui la versione è ancora 0.9.0, all'inizio di novembre, non sappiamo ancora il giorno, ci auguriamo presto. L'11 novembre dovrebbe condizionare d'obbligo oramai con Konami arrivare Creative Teams, il nuovo MyClub, per oggi non mi aspetto tanto di più se non i classici due eventi in cui il primo evento c'è a vincere una partita, il secondo evento c'è a vincere la seconda partita. Vediamo un po' se c'è qualcosa di particolare, allora la cosa particolare è che durante questo evento avrai la possibilità di utilizzare i nostri partner europei. Andiamo un po' a vedere, allora, sembra che c'è un solo evento, però vediamo. Prima di tutto, partner europei, un par di ciufoli, una parte dei partner europei, perché c'è il Manchester, c'è il Barcellona, c'è la Juventus, c'è il Bayern Monaco, l'Atalanta e lo Zenit, non c'è la Roma, non c'è la Lazio, non c'è il Napoli, non c'è l'Arsenal. Ma vabbè. Allora, no, sempre la stessa cosa. Sfida 1, vittoria minima 1, numero massimo di partite 3, vittoria minima 2, numero massimo di partite 3. Assolutamente non sia mai, non sia mai che ci sia qualche novità in questa demo plus, addirittura così, un po' di squadre partner, neanche tutte le squadre partner europee avrebbe avuto più senso. Allora, scegliamo la nostra squadra per l'evento. Io mi sa che scelgo il Bayern. Adesso non le gioco, però tanto, una volta scelta non posso più cambiare, ma sì, dai, gioco col Bayern. Ricorda che non potrai modificare la squadra scelta da qui in poi, perché questa cosa non si sa. Eccoci qui. Adesso non gioco, non gioco perché no, però volevo mostrarvi il tutto. Impostazione, vabbè, allarghe gradualmente ricerca. E quindi anche oggi, dal 30 settembre, andiamo avanti con questi eventi che sì, ci danno 10.000 GP in più, per carità, ma ci saremmo anche un, come dire, un attimino rotti di fare sempre la stessa cosa. Io ve l'ho detto, adesso è accettabile, per il momento non lo sarà più dall'11 novembre, da quando arriverà Creative Teams e lì spero che la creatività di Konami si manifesti in tutta la sua grandezza. Cioè grandezza nel dire che è un mese e mezzo, che facciamo sempre le stesse cose. Un evento, una vittoria, secondo evento, due vittorie. Ma, cioè, risulta davvero difficile, davvero difficile fare questi video, ragazzi, ve lo assicuro, ve lo assicuro, perché sapete che per me questo gioco ha delle potenzialità sotto una coltre di bug e di criticità grafiche e anche di gameplay, perché quando la palla ti passa a un millimetro al giocatore e il giocatore non interviene, ti dà fastidio. Si potrebbero creare tanti eventi, tante cose interessanti, ed invece da 30 settembre, da più di un mese, sabato scorso ho fatto il video per riassumere questo primo mese, continuiamo così. In teoria, o almeno stando al roadmap ufficiale, questo dovrebbe essere la penultima volta che ci sorbiamo questi due eventi, perché l'8 novembre dovrebbe tornare, anzi, a proposito, fatemi vedere la data di chiusura, fra sei giorni e diciannove ore, quindi finisce tutto domenica, domenica, lunedì 8 novembre dovrebbe essere l'ultima volta, lunedì 15 novembre dovremmo stare già giocando da qualche giorno a Creative Teams, è quello che mi auguro vivamente, perché io non ne posso più di fare un evento una vittoria, fare un altro evento due vittorie, con le squadre sempre quelle, perché alla fine, la prima settimana tutti gasati, io compreso, la possibilità di scegliere qualsiasi squadra, e poi piano piano solo le squadre partner, anche oggi ce ne sono solo sei squadre europei, i nostri partner europei, dove? L'Arsenal dov'è? Napoli dov'è? La Lazio? La Roma? Un po', di utilizzare alcuni nostri club partner europei, anche questo è sbagliato, voglio dire, proprio in italiano, perché alcuni dei nostri club partner europei, non i nostri club partner europei, vabbè, l'ultimo dei problemi, lo devo dire. Ragazzi, buon divertimento, vi mostrerò le partite che farò per prendere altri 20.000 GP, vi ringrazio per l'attenzione, mi raccomando, se siete arrivati su questo video per caso, per così dire, e ancora non siete iscritti al canale, fatelo subito, se volete supportare il canale, anche sopportare il canale, potete fare acquisti su Amazon passando per il link di affiliazione presente nella descrizione del video, oppure abbonarvi al canale da 99 centesimi al mese, sono 3 centesimi al giorno, difficile chiedere di meno e ci supportate sia materialmente con un piccolo contributo economico e sia anche, e vi assicuro che ha la stessa importanza, da un sostegno morale, cioè di apprezzare il nostro lavoro che cerchiamo di fare quasi tutti i giorni, ma oramai in questo periodo davvero tutti i giorni. Va bene, buon e-football con la speranza che sia la penultima volta di fare questi eventi e nient'altro, buona inizio di settimana ancora, buon ponte, anche se so che alcuni lavorano anche oggi, ma buon ponte a chi lo può fare e al prossimo video. Ciao!